un saluto a tutti ed eccoci qui per questo annuncio veramente un po particolare un po speciale perché poi lo vedete anche da questa schermata che ci riporta un attimo indietro a quelle che erano state i primi primi esperimenti di diretta che avevamo fatto qui su blog a partire da discord della piattaforma discord e siamo di nuovo su discord soltani vedete anche più anche imparato con obs a mettere la mia bella cornicetta con la webcam e però mi ritrovate di nuovo con la cuffia da registrazione di discord perché di che cosa parliamo allora io devo dirvi sono stato veramente colpito dalle reazioni che ha suscitato il mio video quello lo lo speciale per i miei iscritti in cui davo un po di consigli ma anche altro esponiamo poi le mie esperienze per quello che riguarda la creazione di un canale dedicato ai ai war game e assolutamente vi ringrazio di tutte quante ai commenti che sono stati anche commenti pubblici che poi dopo altri in privato come sono arrivati eccetera una costante di questi commenti è stato un po le osservazioni che mi avete fatto sposo la chiusura di quello speciale in cui dicevo beh sarebbe bello avere una piattaforma un punto di aggregazione un supporto un qualcosa che appunto aiuti ad aggregare anche vari creatori contenuti sul board italiani già esistenti e anche quelli che arriveranno che sono veramente tanti o i rumori che sentite perché in questo certo c'è un cantiere vicino ma non vi preoccupate vedete siamo sempre siamo sempre in in lavorazione che dicevo in tanti appunto vi siete concentrati su quella chiusura finale che in effetti era anche uno uno dei punti fondamentali un po del del discorso che avevo fatto perché a me piacerebbe appunto che questi creatori di contenuti sul board italiani che ci sono quelli che ci saranno sono già tanti effettivamente state vedere su youtube e anche su altre piattaforme non siamo in pochi e mi fa molto piacere e siamo nell'ambito esattamente come sta succedendo anche in altri in altri paesi e sono veramente felice perché da questo punto di vista in italia non siamo assolutamente indietro rispetto a nessun'altra realtà nazionale nel mondo del work game però ecco una cosa che potrebbe essere utile per aiutare ancora di più la crescita di questo fenomeno renderlo ancora più efficace ancora più un approfondimenti ancora più interessanti sarebbe appunto quello di avere un punto di riferimento un punto di aggregazione e come spesso faccio quando non c'è una cosa che vorrei tanto che ci fosse mi viene in mente ma perché non creiamo ma perché non la costruiamo e soprattutto perché non la costruiamo insieme e quindi da qui mi è venuta l'idea di questa roba che voi state vedendo qui che voi state vedendo qui in questo momento e che si chiama scipio net che cos'è scipio net dunque allora diciamo così negli ultimi giorni io ho pensato di concretizzare un po tutti questi spunti che mi erano arrivato e assieme ad altri amici che ne sanno più di me di discord per carità dal punto di vista tecnico ho cominciato a lavorare qualcosa che secondo me è veramente nuovo e che vorrei sottoporre la vostra attenzione sia di voi che siete pubblico sia di voi che siete gli altri creatori di contenuti che mi state guardando che vedete questo questo video in generale all'attenzione un po del del nostro mondo del wargame italiano perché credo che possa rivelarsi essere una risorsa per tutti questo che vedete appunto è scipio net sapete che io sono anatico di scipione quindi non è una sorpresa quindi voluto chiamarlo così e cos'è è una piattaforma su discord è un server discord concepito proprio per le esigenze attenzione dei creatori di contenuti e del pubblico cioè a differenza anche di altri ottimi server che discord che si stanno anche moltiplicando nel mondo del wargame italiano e quindi non per voler duplicare o peggio ancora entrare in competizione ma proprio per creare qualcosa di diverso ho pensato utilizziamo discord per l'altro suo grande scopo che non è solo quello organizzare ottime splendide serate di gioco ma appunto come canale di comunicazione l'idea è appunto che sia una piattaforma di aggregazione pensata appositamente per i creatori dei contenuti sul game di ogni genere e di gioco di simulazione storica eccetera che per il loro pubblico quindi che cos'è esattamente scipio net allora è un server questo che voi vedete adesso poi non vedremo un attimino più più profonditamente un server disco in cui tutti i creatori dei contenuti italiani e il loro pubblico potranno ritrovarsi insieme e confrontarsi liberamente e apertamente piattaforma ma come lo sto a dire che ovviamente è gratuita e ad accesso libero è aperta tutti quindi come vedete ci sono piano piano adesso di quelle vedete non è stanno arrivando già qualche amico invitato qualche amico ma insomma un po per farvelo vedere già un pochino un pochino popolata ma sono sicuro che si può guardare e appunto questo vedeva anche per incoraggiarvi ad iscrivervi e ha tutto lo scopo di creare un ambiente produttivo creativo in cui appunto si possano anche generare oltre che scambiare dei dei nuovi contenuti spero un ambiente anche che sia sereno piacevole per tutti dove magari una sera non c'è niente da fare sta lì magari che il passi sui segnalini c'è una serata si collega e qualcuno lo trova e si fa 4 chiacchiere tranquillamente sul world game si punete garantisce uno spazio assolutamente creativo lo abbiamo detto opportunità d'incontro anche il supporto tecnico per tutti gli autori di contenuti creatori contenuti e loro destinatari quindi anche è un modo per entrare in comunicazione scambiarsi un po esperienze e consigli anche come funziona discord come funziona bs ma tu che videocamera usi ma qui che stile hai utilizzato per questo video c'era questo nell'ambito dei creatori dei contenuti nell'ambito del pubblico ma questa recensione mi ha parlato di questo gioco dove lo posso trovare oppure ma quest'altro gioco e cosa ne pensi che sempre dello stesso autore queste cose così tutti coloro che in italia quindi fanno analisi e approfondimenti riflessioni unboxing tutorial play through streaming eccetera eccetera qualsiasi cosa legata al war game in tutti i giocatori che utilizzano questi con questi canali di comunicazione come punto come fonte di informazione sono i destinatari disciplinati come l'ho pensato quindi possono tranquillamente chiedere l'iscrizione e appunto utilizzare usufruire di questa di questa iniziativa lo scopo qual è lo scopo scopo di sciperette semplicemente quel di promuovere la comunicazione ludica sull'ordine in italia e promuovere il confronto reciproco tra creatori di contenuti e creatori di contenuti e creatori di contenuti e il loro pubblico è anche l'interno del pubblico medesimo l'idea di creare un ambiente comune a tutti forrendo a tutti quanti una piattaforma libera di scambio di informazioni di contatto di iniziative di gioco anche di conferenze di eventi e tutto quindi attenzione non nasce come un server di vediamoci su scipio net organizziamo una partita poi si può anche fare questo e probabilmente si trova lì ma non è quello il suo scopo primario lo scopo è quello appunto di creare questa piattaforma di comunicazione di di aggregazione e appunto anche poi magari un creatore proprio io posso decidere quella sera ciò o un'intervista ad un autore non la facciamo su stream yard che dovete stare lì a fare col testo eccetera la facciamo su discorso sul canale quindi c'è quell'autore che parla con me eccetera magari ovviamente la mettiamo in diretta anche chi non è subito net eccetera se la può vedere su su youtube però se voi siete dentro scipio net ci possiamo sentire facciamo anche subito un dibattito parliamo direttamente potete fare delle domande direttamente vocali senza passare ad un po come è stata appunto come la virtual film convention chi c'è stato anche nelle varie nelle varie iniziative che ci sono state anche intervista per andrea angiunino oppure quella la piattaforma l'intervista con vari con la tavola rotonda scusate con vari editori questa è l'idea poterlo fare in maniera stabile e questo di per tutti i vari creatori di contenuti adesso vi faccio vedere un pochino adesso voglio andare in concreto come come è strutturato scipio net ovviamente avete un appena voi vi iscrivete quindi come ci si scrive semplice mandatemi una chiedetemelo tramite twitter facebook e tutti quanti i vari canali che conosciamo vi mando tranquillamente l'invito vi mandiamo l'invito gli altri amici che appunto sono all'interno di scipio net appena arrivate c'è qui il benvenuto quindi vedrete questa schermata la prima cosa che dovete fare questo filtro che noi abbiamo messo per il discorso dei bot e vedete dovete adesso codice di condotta andate qui e mettete questa reazione con la spunta verde ok quindi aggiungi una reazione e poi la trovate la reazione con la spunta verde praticamente accettate la il codice e il codice di condotta che poi io ve lo lascio qui così potete anche fare paura per te leggerlo e diciamo un po quello che è un po mini regolamento che ci siamo dati di scipio netta ma sono proprio delle cose veramente molto semplice una cosa la lingua fondamentale una cosa non mette la lingua di base del server è italiano poi magari sono una sera ha anche dei dei ospiti stranieri ovviamente che sono è la lingua base è l'italiano perché appunto è pensata per i creatori di contenuti italiani allora poi subito dopo avete un canale di annunci o questo è importante su questo ci stiamo lavorando seguire contenuti quindi potrete ad ogni stanza che ci stiamo un attimino lavorando però potrete mettere con un sistema di emoji una reazione a questo questo messaggino del bot e diventerete follower di canali specifici quindi avrete contenuto specifico a partire da quei canali una chat generale ovviamente adesso voi vedete tutto quanto vuoto per ovvi motivi però diciamo adesso pieno pieno si popolerà poi un canale vocale generale di scipio net e poi queste cose qua vedete lo adesso intanto ci sono già c'è già per blog c'è già per gli amici di solete rurga in settimana gruppo c'è giovanni milandri che saluto che ha già aderito che cosa succede i creatori di contenuti ad ogni creatore di contenuto di contenuti che non vorrà appunto che poi dopo dopo essersi iscritto mi mando messaggio che lo creiamo che viene creata questa che è una eccolo quasi di si chiama scusatemi no ho sbagliato si chiama una una categoria la categoria all'interno dei canali il creatore di contenuti di quella categoria in questo caso io come blog ma pensiamo anche giovanni per istruzione o gli amici di solite rurga ins italia che hanno un settaggio particolare possono creare tutti quanti i canali che vogliono all'interno della loro categoria sono responsabili del contenuto che c'è all'interno nonostante sono totalmente liberi che nessuno gli viene a dire niente lì quindi ovviamente possono fare qui tutte le iniziative che vogliono di partenza gli viene creato un po modello di quello generale gli annunci e qui vedete una cosa importante nella annunci c'è un bot che rimanda negli annunci di quel creatore di contenuto tutto quanto il riassunto dei video che ha fatto vedete e quindi in automatico anche chi è anche il giocatore che parte del pubblico eccetera ma che video ha messo riccardo in ultimi tempi tra che se li trova tutti qua con i link e questo per tutti quindi quando giovanni farà un video comparirà qua nella sua nella sua canale degli annunci poi risorse per link e cose varie una chat e poi eccolo qua poi un canale vocale a cui adesso non mi dovevo collegare ma mi sono collegato va beh quindi o naturalmente questo diciamo è un po la cosa ma poi il creatore di contenuti che lo vuole può crearsi tutti i canali che vuole testuale o vocale o come vuole quindi qui voi vedrete però ce ne sono tre io penso che ce ne saranno molti altri in futuro questi qua sono tutti quanti i vari canali di dei creatori di contenuti poi ci sarà per i creatori di contenuti una una stanza parte quel punto magari il porto di coordinarsi fare un po di eventi assieme poi queste sono quelle di servizio dei moderatori e degli admin ovviamente queste sono un po per noi di servizio di disciplina però ecco questo è un po il il discorso generale quindi creatore di contenuta che si iscrive a una sua categoria con dei suoi canali che sono suoi e nessuno gli dice niente per quelli li gestisce lui assolutamente in piena libertà su cui può incontrarsi con il pubblico fare eventi fare dirette tranquillamente senza assolutamente totalmente a sua disposizione sono suoi e immaginate è uno spazio su poi c'è uno spazio comune che questo qua sopra appunto questo col che riguarda un po tutto il serve voi che i giocatori che invece siete pubblico potrete appunto segnarvi poi vedere e ogni volta che questo importante ogni volta che un qualsiasi creatore di contenuti fa un video fa un qualcosa ricevete una notifica dal server che magari un pochino più comodo rispetto a youtube che noi sempre siamo segnati 85 canali ma sì ci arrivano magari mail ce le perdiamo in questa maniera non ve la perdete io per esempio che oltre a essere admin creatore di contenuti sono faccio parte del pubblico adesso riceverò delle notifiche ogni volta che altri creatori di contenuti del war game che avranno che si saranno iscritti a uscite faranno un video non è male è un po una piattaforma di aggregazione che mi tiene aggiornato continuamente cosa che può essere molto utile perché altrimenti potrebbero essere dei contenuti che mi per e poi magari posso venire a scoprire dei creatori di contenuti di war game italiani che magari non conoscevo che l'algoritmo di youtube magari perché stanno cominciando non hanno chissà quale pubblico non mi evidenzia mentre invece se anche voi vi fate il canale volete cominciare eccetera vi insegnate a qui a scintore te ricevete la vostra la vostra categoria e la vostra stanza e immediatamente tutti gli iscritti al server riceveranno una notifica ogni volta che fate un video personalmente se ci fosse stato questo quando ho cominciato con blog non è che mi avrebbe di non è che mi sarebbe dispiaciuto per nulla perché veramente sarebbe stato un sistema automatico molto molto importante che mi avrebbe aiutato però ovviamente preso non c'era quei tre anni fa non era così conosciuto adesso invece e invece quindi questo è un pochino come come funziona il nostro server quindi l'abbiamo detto riassumendo mi mandate il vostro contatto di cordone una mele eccetera tramite twitter messaggio privato facebook come vi pare eccetera l'invito e poi voi tranquillamente potete entrarvi quindi l'ingresso è assolutamente libero se siete dei creatori di contenuti ditemelo me lo fate sapere ricevere e se volete appunto riceverete appunto nella vostra categoria con i vostri canali e voi all'interno di quei canali sarete gli unici gestori responsabili del contenuto che diffonderete nelle vostre stanza e quindi da lì poi potrete entrare in contatto anche con altri creatori di contenuti fare iniziative assieme utilizzare la piattaforma per eventi avete un ospite lo invitate una sera nel canale negli annunci dite guardate che ci sarà la conversazione questo questo giorno della suo nostro canale vocale chi vuole venire è così aggreghiamo gente si siete invece dei semplici giocatori che non avete non siete creatori contenuti ma utilizzate i contenuti che sono creati appunto i ragazzi autori benvenuti riuscivete perché potrete entrare scrivendovi potrete seguirli meglio entrare direttamente in contatto con i creatori contenuti perché avrete subito tutti quanti i contatti che puoi partecipare alle loro iniziative che vorranno fare su serve e poi avrete questo sistema questo sistema di notifiche che effettivamente è veramente veramente molto comodo poi magari in un secondo momento vi potrebbe venire idea di ma sai che c'è ma me lo faccio anche il canale mi diventate creatore di contenuto e allora facciamo anche per voi la vostra categoria è molto libero è molto l'idea appunto che sia un momento di confronto insieme libero paritario di modo che poi da questo quasi un laboratorio da cui poi si crei a sua volta altro contenuto tramite gli scambi in interazione che avrete di voi attenzione importante questo non è il server di blog questo è un server su cui ci sta anche blog io poi e anche altri amici siamo admin un po perché ci siamo presi la briga di di concepire di organizzarlo così ma è un server di tutti i creatori di contenuti e di tutti i giocatori che fanno parte del loro pubblico per molto spesso le due cose che scoprono quindi è un discorso che va al di là del singolo canale questo è un server di tanti canali in cui ognuno dice assolutamente la propria e ognuno è sullo stesso sullo stesso piano sullo stesso livello questo vale va molto bene sia per i canali che stanno cominciando e quindi improvvisamente si troveranno ad avere una visibilità un accesso molto ampio e molto focalizzato sul pubblico quindi un'informazione molto focalizzata che per i canali più grandi che magari hanno più capacità di creare grandi eventi e che quindi grandi serate per il loro canale e che quindi potranno subito tutto scambiarsi esperienze con altri creatori di contenuti e appunto avere la possibilità di aggregare più persone su loro eventi quindi l'idea è quella di creare questo questo ambiente in cui spero almeno un po tutti potremmo trarne potremmo trarne beneficio anche magari per incrociare i nostri pubblici la gente che magari sta sul blog conosceva l'ottimo canale di giovanni o la gente che sta sul canale di giovanni non conosceva log ci si incrocia subito immediatamente ci si trova qua tramite 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 scipio net non mi sta dicendo una verità streamer attivata è certo che attivata e la teniamo attivata scusatemi c'era quel coso e metterò tutto e allora quindi questo è questo è il un po il discorso sul funzionamento altra cosa che cosa non è invece scipio net non è l'abbiamo detto un coordinamento editoriale una linea ti dico che cosa devi scrivere non devi scrivere che ti dico magari tu occupati di questo io mi occupo di questa no ci si può organizzare fare delle collaborazioni questo tranquillamente però attenzione l'idea di scipio net che appunto è il contrario che incoraggi la anche la diversificazione dei contenuti incoraggi anche la creazione di contenuti ancora più originali soprattutto la libertà di creare contenuti non vuole fra l'altro rappresentare essere il sindacato dei creatori di contenuti italiani ci rido un po però ecco diciamo semplicemente vuole essere una piattaforma e servizio di quei creatori dei contenuti di quei giocatori che una parte del loro pubblico che vogliano aderirvi molto liberamente in maniera molto informale molto molto semplice seconda cosa non è un'iniziativa legata ad una singola associazione perché le associazioni sono un aspetto fondamentale del nostro del nostro mondo è ovvio è naturale però non è che è di questa associazione piuttosto che di questa poi fra l'altro l'associazione se vuole se ha un canale in cui crea contenuti e so che ce ne sono naturalmente può dire settima ci iscrivi anche a noi su scipio net e ci fai la nostra bella stanza perché noi ogni tanto magari mettiamo delle dirette di partito oppure parliamo di giochi eccetera ma assolutamente sì ragazzi assolutamente e mi fa anche piacere però ecco diciamo non è un discorso associativo non è che se voi vi insegnate a scipio net non esiste l'associazione scipio net per quello che mi guarda si stramai è un discorso di nuovo ricordate non è un discorso di un marchio o di un altro è un discorso di un non c'è un di per sé un marchio scipio net anche se questo simpatico e il metto qua e due ma quello per riconoscimento e c'è un discorso di scipio net che un punto di aggregazione ma si ferma lì la storia molto ripeto è molto molto informale e l'aggregazione che portiamo avanti su scipio net non è di carattere associativo e di carattere tanto controllo quale immagini è di carattere contenutistico cioè si basa proprio sui sui contenuti altra cosa scipio net l'abbiamo detto non è un portale di gioco a distanza ce ne sono già ce ne sono ottimi poi magari uno si incontra e poi risenti ma stasera non c'è niente da fare facciamo una partita su passale va benissimo magari me l'ha mandata in diretta da leader dal vostro canale ma quella è una cosa un po estemporanea molte associazioni perché questo perché molte associazioni molte realtà si sono dotati di ottimi piattaforme discord di server discord in cui fanno gioco a distanza e io vi rimando lì anzi da scipio net è più facile dire ragazzi ma sapete che domani su questa piattaforma di questa associazione o di questo serve noi giochiamo a questa cosa chi vuole venire tramite questo è più facile fare rimane quindi di nuovo non va in competizione se si mette a servizio delle altre piattaforme di altre sempre resistenti anche di chi vorrà fare ancora sempre e questa è una cosa bene merita che personalmente io promuovo totalmente queste conversione virtuali non è che va in concorrenza va anzi supporto perché anzi è più facile trasportare diciamo così o comunque trasportare no al brutto diciamo segnalare l'evento al pubblico magari di scipio net che non avrebbe ricevuto la comunicazione un annuncio io partecipo alla convention tal dei tali chi vuole venire è ovviamente questo è una comunicazione che va dritta per gli iscritti a scipio net quindi ultima cosa non vuole entrare competizione con nessuno è una piattaforma di supporto che va a supporto di tutte le piattaforme esistenti anche di quelle che si creeranno nel modulo war game tramite scipio net i singoli delle associazioni gli operatori del settore quant'altro potranno raggiungere più facilmente sia i creatori di contenuti perché ritrovate qua e dice facciamolo convention tra la tra chi è che vuole partecipare e da questi giorni chi è che vuole organizzare un po di partite e i creatori e punto arriva il messaggio su scipio net questo viene diramato i creatori di contenuti e allora poi ci si mette in contatto come vedete vedete questa idea di creare questo networking e questa rete avevamo detto nel video networking 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 che trete in rete rete quindi in questa in questa maniera qua e appunto sarà più facile raggiungere tutti quanti questi soggetti creatori contenuti ma anche i singoli giocatori proponendo le varie collaborazioni e quant'altro segnalando gli eventi gli autori che vorranno iscriversi quindi veramente una piattaforma aperta aperta per tutti che di nuovo non è un doppione non è un omologo di altre piattaforme che ci sono che verranno fuori gruppi facebook forum e quant'altro che hanno altre forme di comunicazione e anche altri server su cui si faranno discussioni legate world game fondamentali utilissime però come vedete qui ha un orientamento leggermente diverso poi naturalmente io sono sempre dell'idea che più canali ci sono più ci sono più interazioni vengono create quindi più è facile aggregare sia da una parte che dall'altra quindi persone da un server poi vengono in visita su scipio net magari si iscrivono persone da scipio net vanno in visita su un altro server e poi magari si scrivono lì io personalmente sono iscritto credo una dozzina come minimo di serve anche di più come vedete fu vari gruppi e cerca quindi come vedete è questo il discorso tutto molto molto libero allora chiave di tutto andando a concludere e che scipio net vuole essere una piattaforma libera di scambio di comunicazione di confronto al servizio del world game italiano veramente è una piattaforma di servizio e di comunicazione e non solo in italiano ma già di tutti coloro che si muovono all'interno di questo fatto da per dire fatto dai wargamer per i wargamer l'idea è un po così insomma me nera molto molto informale molto paritaria però io credo anche molto creativa molto molto utile il creatore di contenuti troverà su scipio net una potente piattaforma di aggregazione ottenendo maggiore visibilità per il proprio lavoro potrà avere un contatto diretto con il pubblico entrare in comunicazione con altri creatori di contenuti e quindi confrontare con questi le sue le sue esperienze e poi appunto organizzare delle collaborazioni il giocatore il giocatore tra virgolette semplice chiamiamolo così avrà modo grazie scipio net di entrare direttamente invece a contatto con i creatori dei contenuti a tutti trovarsi lì di scambiarci quattro chiacchiere direttamente scoprirne di nuovi interagire anche con altri giocatori e poi appunto partecipare prima persona le serate gli eventi che ci saranno direttamente dai canali se punto come io incoraggio a fare gli eventi saranno anche anche organizzati proprio sul server sicurezza magari una sera posso fare una partita in diretta di cercare un po come è stato con atlantic chase quindi ci si aggrega lì e si va e si va via tranquillamente e quindi l'idea appunto è un po è un po questa sia per il creatore di contenuti che appunto per il giocatore creatore di contenuti appunto a tutte queste risorse sulle disposizioni anche risorse tecniche e anche queste possibilità di confronto il giocatore può entrare a contatto diretto e partecipare in maniera diretta agli eventi dei suoi creatori contenuti appunto e anche incontrarsi con altri giocatori tutto questo in un ambiente libero paritario contrassegnato da un'unica cosa la grande passione per il gioco di simulazione storico e per il work game quindi confronto tranquillo civile perché ci saranno le moderatori e tutto ma io sono sicuro che siamo tutti quanti siamo veramente qui succede tutti nell'attesa parte quindi rendiamo tutti nella stessa direzione nessuno impone contenuti di nessun genere nessun altro ci si confronta il si realoga poi alle sue peculiarità le sue differenze sui gusti nessun problema ognuno potrà portarli avanti in maniera totalmente congrua assieme a tutti gli altri e il tutto questo spirito di aggregarci di stare insieme intrecciare quanto più possibile le nostre le nostre esperienze in questa rete di relazione comunicazioni reciproca appunto per avere un po un aggregazione di questo nostro di questa nostra passione quindi io faccio un po questa questo appello e contro i creatori di contenuti di work game italiani sia quelli che esistono che quelli che vogliono cominciare ma anche i giocatori contattatemi vi mando l'invito ci ci ritroviamo su sci più nette poi risponde la vostra domanda nelle perplessità ai dubbi che potete avere sulla piattaforma poi appunto questo è una piattaforma esistente di cui appunto di vi volevo parlare e questo progetto che abbiamo lavorato io ed altri amici e quindi sta sta qua sta qui sta qui per noi è una cosa che secondo importante a che io sappia non ci sono iniziative sì ma almeno non sono state pubblicizzate all'estero appunto delle piattaforme che partano dai creatori di contenuti e quindi è anche un opportunitario credo prendere ancora più forte il wargame italiano sia in patria che all'estero fuori anche per avere delle migliori comunicazioni anche con con l'estero credo che sia uno strumento che possa rendere ancora più forte il wargame e soprattutto una maniera ancora più divertente e creativa di vedere questa nostra grande passione io chiudo qua questo è sci più nette come vi ho detto mandatemi i vostri contatti tramite mail facebook twitter insomma abbiamo tante tante possibilità di farlo vi mando l'invito e punto poi dopo se volete ci ritroviamo tutti quanti su sci più nette un saluto a tutti e ci vediamo alla prossima ciao